Siamo alla continua ricerca di qualcosa, di una dimensione, di un rapporto e soprattutto di un lavoro e questa mancanza di un equilibrio traspare dalla dimensione quasi animistica del nostro agire, dove anche gli oggetti diventano attori protagonisti in maniera quasi inconsapevole. Il lavoro di Spazio Teatro Instabile, H2 Teatro, si riconosce dalla meticolosità della messa in scena, dall'attenzione attribuita alla parola così come al movimento corporeo. In tutta questa danza recitata anche le sedie diventano prolungamenti dei pensieri e delle emozioni, per cui non c'è bisogno di scenografie, l'ascolto è concentrato sugli attori e di loro volteggiare tra le quinte. Il lavoro mobilità all'uomo è un testo collettivo, autobiografico, in cui gli attori descrivono se stessi e la loro visione del mondo. Lo spettacolo che ne deriva è un libro in cui i protagonisti diventano forma, canzone o ispirazione e non bisogna fermarsi all'apparenza delle divise indossate che annullano le personalità, perché è dentro noi stessi che verdiamo la nostra diversità da mostrare in pose astratte e unirle a quelle dei nostri simili per formare un quadro perfetto. In questo spettacolo ogni attore recita per sé, eppure le storie si intrecciano, si moltiplicano, perché se è vero che ognuno sta solo sul cuor della terra, prima che giunga la sera abbiamo la possibilità di recitare la nostra vita in attesa di una dimensione, di un rapporto o di un lavoro.